Sono a Roma, davanti al bar di Quinto Campi, il mitico Quinto Campi, che è molto semplice. È colui che ha insegnato a Thomas Milian a diventare il commissario Nico Giraldi. Agnappe, ma che ti sei rubato con la ragazza del stesso con tutto il sciacquone? Io voglio assolutamente che Quinto mi insegni ad essere super romano e super Nico Giraldi, proprio come ha fatto con Thomas Milian. Chiedo scusa, chiedo scusa, chiedo scusa, ma lei per caso è il mitico Quinto Campi? Sì. E chiedo scusa, io sono Riccardo Trombetta, è piacere, anzi mi presento, chiedo scusa di disturbarla, sono veramente mortificato, sono mortificato, però lei per me è una leggenda, perché lei è la persona che ha insegnato a Thomas Milian ad essere Nico Giraldi, insegni pure a me ad essere un figo come voi. Come cazzo faccio? Non insegna che ti insegno a me che stiamo a scuola, eh? Signor Quinto, la prego, come insegni qualche battuta? Che battuta? La battuta sullo strunzo. Che tipo so io? Permetti che mi presento maresciallo Giraldi dei Cenciaroli, castigatore dei Pipparoli. Senta, signor Quinto, ma quello che mi chiedo io, no? E come è nata, come è nata questa sua amicizia col grande Thomas Milian? E come Thomas Milian è diventato quinto cambio alla fine? Perché stavamo facendo i film U.S., poi dai film U.S. si sono inventati quinto cambio. Io so quel personaggio che Thomas si è inventato, io andavo a casa sua, lui veniva a casa mia, però non lo sapevo che voleva fare me. Allora, mangiate questa, vieni. La merda? Eh, mica ti farà schifo, è roba tua. Ma se uno dice una parolaccia, quando ci vuoi, ci vuoi per tutti quanti, perché ne cagano il cazzo, lo fanno piantati. Salam, sono musulmane. Ma vedi da andare a far culo? Ecco. Perché noi il copione, mica si leggeva. Dice, quinto, come si dice così? E come si fa così? Perché la battuta viene al momento, non è che si recita, la battuta è quella che te esce fuori. Ma che sei, un poliziotto? Sì, sono dalla squadra antifrosi. Come mai Nico Giraldi, quindi Thomas Mina aveva sempre la tuta, ce lo dici? C'è un segreto dietro? No, ma se era semplice, quella tuta copro tutto, insomma, ecco, le scarpe di gomma e via, quelle da scavarco. E che vuol dire? Da scavarco andavano a fare le cose, il primo piano e il secondo piano, ma come cazzo te lo devo dire? Secondo te, non rivedremo mai un nuovo Nico Giraldi? E ci hanno provato, è difficile, non si può copiare. Perfetto, e tu ti ringrazio allora, grazie mille. Ci vediamo prossimamente. Da me il magento. Mi dico, mi dico. Grazie mille. Questa carossetto, eh. Ciao ragazzi.